la scienza non è divertente la scopzione di generabilia, la vostra avuta sarà scopulatamente vittima di ripetuti pur E adetta che succiate la macchina E che il patadotto è stato donato dalla Superparlota America Eh, io vado a mescolare l'isolato virtuale, io vado a essere lì praticando. Io prenderò il computer per l'educazione sessuale. Vieni, vecchi, andiamo in cerca delle norme vendolo. Aspettali. Eh, la parte ora è illuminata, è l'unità floating point, una delle mie unità preferite. Quante obbligate. Oh, è un bel gioco. Sì, non è che stai facendo male. Allora, com'è che funziona? Per pizza, ce la vuoi prendere? No, puoi solo accendere. Per pizza, come serve per poco? La dittima ha passato la velocità della parte. Questa con il fondo. Ehi, bubba, ti ricordi di me? Oh, si è tutto uguale. Oh, ho avuto un bel gioco. Oh, quello den pomerà è questo il loro misterolo. Oh, ve lo vado a uscire. Beh, ho avuto un'amontenità di mamma. Oh, sei indietro. Ehi, bubba, lui? Oh, suo einerретica. Il cosiddetto è un'amontenità di lui? Oh. Uff. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.